Quando si tratta di divertimento non vi è nulla di simile ai brasiliani che si tratti di un ballo con le maschere della magica atmosfera di Copacabana con i suoi incredibili fuochi d'artificio per Capodanno Oppure di concerti calorosi E' un'immagine che è impossibile trovare in altri luoghi del mondo E' un'immagine piena di vita e di passione E' un'immagine piena di vita e di passione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti